Io splendo perché ho avuto il coraggio di lasciare il mio paese arrivare qua con la speranza per una vita migliore. Io splendo perché attraverso i miei studi e la scienza contribuisco alla salute delle persone. Io splendo è un punto preciso di Meteonus, è una campagna di autodeterminazione e consapevolezza femminile. Splende ciascuna persona al mondo, ciascuna donna, chi è custode del focolare domestico, chi è impegnato nei diritti umani internazionali, chi dirige un'azienda. Splende una città e urbanità, omaggio a Palermo. Splende una città e urbanità. Splende una città e urbanità.